Ciao a tutti e bentornati sul canale! Oggi voglio mostrarvi come è semplice realizzare in casa un barattolo con dei dischetti struccanti, un po' come delle salviettine struccanti e sono semplicissime da preparare. Vi occorrerà un bicchiere d'acqua che corrisponderà a circa 80 ml di acqua, 2 cucchiai di olio di cocco, potete sostituire l'olio di cocco con olio d'oliva anche se è molto più pesante, un cucchiaino di tensiattivo, io utilizzo il deciglucoside ma voi potete utilizzare anche un detergente delicato come per esempio il detergente intimo. Del Cosgard, quindi il conservante anche se non necessario potete anche ometterlo ma in questo caso il barattolo si conserverà di meno, 16 gocce basteranno e a piacere se volete una fragranza oppure un olio essenziale, pochissime gocce, due gocce andranno benissimo. Mischiate il tutto, dopodiché prendete il vostro barattolo dove l'interno ci andrete a mettere i vostri dischetti di cotone e poi infine il liquido. Lasciate il barattolo chiuso per un giorno, dopodiché potete utilizzare i vostri dischetti. Sono comodissimi e struccano veramente malemente bene. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel pollice in su e fatemi sapere che cosa ne pensate e se lo fate. Io vi mando un grossissimo grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao! Ciao!